Suo figlio, tra l'altro prediletto, tra l'altro successore Non può scatenare altro che una guerra, Ronaldo Junior mai sei sicuro di poter fare sta cosa? Se Ronaldo Junior si presenta così a casa sua, a Ronaldo gli viene l'infarto fulminante Gli parte l'infarto di quelli devastanti Perché suo figlio prediletto c'ha addosso quella merda di maglia? Ronaldo è impazzito, c'è il sangue agli occhi, non ci ha visto più, ci vuole picchiare Aia, aia Oh merda No Ciao pagliacce e pagliacce, qua è Ome Gozzo e benvenuti tutti quanti in questo nuovo, stupendo video Dopo un'assenza di 10 giorni di cui vi chiedo scusa ma abbiamo avuto un lavoretto da fare Sono stato a Milano insieme ad altri youtubers perché abbiamo fatto un lavoretto particolare che vedrete nelle prossime settimane Quindi non posso dirvi nulla per ora, però vi dico che è stata una figata Quindi riprendiamo a bomba oggi signori Sì, attenzione perché oggi la pazzia forse non più bella di Ronaldo Junior, non quella più pazza ma quella proprio inaspettata che, raga, il nostro Cristiano Ronaldo non se l'aspetterebbe mai, mai, mai da Ronaldo Junior Infatti abbiamo chiesto al negozio, ragazzi, quello che sta a Los Santos dove vende i vestiti anche che sta su GTA Online Di farci una divisa del Barcellona Del Barcellona, raga Guardatevi al devasto, al disastro e chi più ne ha più ne metta, ve lo posso garantire Quindi prima di passare al video come facciamo praticamente ogni giorno Perché vi dico che saranno le ultime volte, ragazzi Quindi mi raccomando venite e mi seguite su Instagram perché sono le ultime volte Saluto, noi siamo calciatori che mi scrive grande frate Grande, però sto pensando in realtà di farmi prete perché, cos'hai, prete rispetto al frate è più, non lo so, amo quel tocco un po' di classe Bene, ti saluto Saluto anche Grazia9984 col segno delle schede Attenzione che mi scrive sei fatto Grazie, grazie per il tuo commento Bella qui e ti saluto Bene, ragazzi, come vedete, siccome saranno le ultime volte che faccio questa cosa perché da un bel po' di tempo che lo facciamo Quindi sta per finire, venitemi a seguire su Instagram, lo trovate qui in descrizione Mi raccomando, venitemi a seguire, devastate il tasto segui perché sono le ultime volte, ragazzi, che lo facciamo Quindi mi raccomando, io vi aspetto, così vi posso salutare Eccoci, ragazzi miei pagliacce pagliacce Come avrete intuito sicuramente, vi avevo anche detto qualche secondo fa nella intro Stiamo andando a prendere il completo, sicuramente l'avrete visto, regà, il completo personalizzabile Quello che usano anche in campo tutti i giocatori del Barça quando fanno le partite, no? Quello a riga, strisce, verdi, no verdi, scusate Blu e rosse Che hanno usato, non so, fino a tanto tempo fa Che comunque voglio prendere quel tipo di modello lì Perché sinceramente a me piace tantissimo Ma come? Non era verde? Sono passato Dai, vabbè, dai, fa niente Comunque, visto che siamo quasi arrivati Datemi un parere, secondo voi, su quello, non so, che succederà Ditemi nei commenti, secondo voi, la reazione di Ronaldo Perché, fidatevi Per un padre che tifa Real Madrid con tutto il cuore È icona del Real Madrid Vedere suo figlio, tra l'altro prediletto Tra l'altro successore La maglia del Barcellona Quindi il club nemico per eccellenza Non può scatenare altro che una guerra Ronaldo Junior, ma sei sicuro di poter fare stella cosa? Minimoto su Pring che mi ha regalato papà È bellissima Perché io devo fare sto sfregio? Sì, la dobbiamo fare, regà Ve ne frego Sfregio Va bene, allora, siamo quasi arrivati Quindi, oh, meno male che la verde è quello passano Guarda tu Allora, vi ricordo che qui a Rockford Hills Ci sta, oddio Mamma mia che frenata Ronaldo Junior Qui, sì, proprio lì, ragazzi A Rockford Hills ci sta quel negozietto lì Che vende prodotti personalizzabili Quindi siamo andati a prenotarlo Dovrebbe essere pronto Ok, Rockford Hills, ragazzi Dovrebbe essere proprio sulla nostra destra Poi, tra l'altro Alcuni nei commenti Mi hanno detto Omega, sì, è bello Bella una minimoto, regà E siccome, ragazzi Ci tengo a queste cose Anche tanto Perché per fare quella minimoto Se ne va una mezza giornata Per fare un'altra cosa Se ne va mezza giornata Quindi, sì, Omega Ci piace la minimoto Molto bella Bella idea Via dicendo, no? Quindi, soprattutto l'idea qui Adesso di entrare nel negozio E vedere la faccia di papà Quando gli andremo proprio davanti Così, con la divisa del Barca Che faccia che fa Salve, signora Sarei venuto a ritirare la mia tuta E vi ho prenotato una tuta del Barcellona A nome di Ronaldo Junior Posso trovarla nel camerino? Ok Bene, ragazzi Allora, a questo punto Misuriamocela un attimo Vediamo un po' com'è questa tuta del Barcellona Poi ci rimettiamo i vestiti Andiamo a casa Vi sto per vedere se quadra perfettamente Se è perfetta Insomma, tutto il resto Dai, andiamo a vedere Oh mio Dio, ragazzi Se Ronaldo Junior si presenta così A casa sua Gli viene A Ronaldo Gli viene un infarto Fulminante Pum, pum, pum Gli schizza fuori il cuore Ronaldo Junior Ma sei sicuro Di voler fare una cosa del genere? Cioè, ragazzi Ragazzi La maglia è fatta veramente bene Come anche quella del Real Madrid E poi, ovviamente Pantaroncini Vabbè, scarpe Quelle che avevamo già Ronaldo Junior Ma sei proprio sicuro? Sei proprio sicuro Di voler fare una casa simile? Tua pateta ammazza Vabbè, dai Devo dire, ragazzi Che c'è sta popa a pennello Vatti a cambiare Rimetti i vestiti vecchi Ok, signora Poi passa mio padre a pagare No, no Che pagare? Devo pagare io Non posso Non può passare papà a pagare Ragazzi Ragazzi Magliaggi Non ci credo che lo stiamo per fare Stiamo per presentarci a casa Con La divista del Barcellona Che abbiamo da sotto Quindi basta che sarevamo tutto Pantaloni Giacchette No, già Sì, la felpa Supreme Ragazzi E fidatevi che a Ronaldo Gli è parte la reazione Più brutta del mondo Cioè Voi pensate voi Che reazione può avere Ronaldo Quando ci vede Vestiti in quel modo, ragazzi Secondo me poi Pazziti e basta Me ne prego del semaforo, ragazzi Non vedo l'ora di andare a casa Non ho giù Io per piano Non c'è Ragazzi Ci possono essere volendo Due possibilità La prima È che ci pesta sangue Anzi Ce ne possono essere svariate Ragazzi La prima è che ci pesta sangue La seconda Che No, Molotov ragazzi Non ne ho comprati più Quindi Non ho Non ho Molotov in casa Quindi Molotov non ce ne sono Ve lo dico subito La prima cosa che faremo adesso È controllare se papà in calda Perché vi spiegherò il piano Insomma Cerchiamo di farlo Il più bello possibile Questo scherzo Cioè Scherzo A me non mi dispiacerebbe Tassa al Barsa Non sto scherzando Dai ragazzi Non veramente Mi diciate anche voi Allora Entriamo in casa Eccoci qui Non vedo papà Almeno qui Da nessuna parte C'è sta il pilota Non è mamma Cazzo hai i capelli rossi Non ci credo ragazzi Samantha se No Samantha Dai che fai Come Jasmine adesso Che ti fai i capelli così Dai Non ci credo ma Perché te fai ste cose Vabbè Ragazzi Insomma La mamma è qui Non so Stavando forse con le sue amiche Lasciamola stare Papà non c'è Forse è al piano di sotto Forse deve ancora tornare Non lo so Quindi ora ci faremo Ci cambiamo prima di tutto La mamma non sa niente Se ne freghiamo Se ne freghiamo De tutti De tutti E preparatevi Perché Ronaldo Regà Tra qualche Minuto Secondo Non lo so dove Ora lo troviamo Gli è parte L'infarto Di quelli Devastanti Le scarpe da calcio Come vedete Quelle proprio Professionalità Giocatore E mentre verrà Papà Cioè lo chiameremo Ci faremo vedere Che stiamo giocando A Pala Ci stiamo allenando E diremo Che abbiamo provato Il provino Per entrare nel Barcellone Ci hanno preso E abbiamo lasciato Il Real Madrid Ragazzi Immaginatevi La reazione di Ronaldo Quando vedrà O sentirà Una cosa simile Mamma mia Epico Ok ragazzi Papà dovrebbe essere arrivato Abbiamo sentito Il rombo dell'auto Ok ragazzi Allora Vi posso dire Che Ronaldo È incazzato Cioè guardate Già il fatto Che sta così Appena tornato Dall'allenamento Quindi sicuramente Sarà nervoso Perché torna sempre nervoso Perché si fa un bucio Si fa un culo così Ecco insomma E adesso Ronaldo Sta incazzato Lo stai dicendo Si strachendo Perché Suo figlio prediletto C'ha addosso Quella merda di maglia Ragazzi Tra l'altro Siamo anche dei tratati Quando Junior Ora succede L'apocalisse Forse la meglio Se bevevi Guarda papà Te posso spiegare Però Ronaldo Junior Oddio Lo sto facendo davvero Sta dicendo A suo padre Che ha fatto il blovino Per entrare nel Barça E il Barcellone L'ha accettato E ti è andato Vietare la Madrid Ronaldo Junior Levati quella schifezza Dadosso Basta Forse era meglio Non farla Sta cosa Ragazzi Guardate Ronaldo Si sta Si sta trattenendo Sta fan Tipo adesso Esplode De rabbia Attirata Da quella Caccia Da quella borsa Una mazza Da baseball Da golf Un molotov Un RPG Una mazza Da ficcarti In quel posto Ronaldo Junior Basta No ragazzi La situazione Sta per precipitare Me lo sento Secondo me Raga Ronaldo Ora esplode Picchiare Ronaldo Junior In una maniera Assurda Oddio ragazzi Come immaginavo Ronaldo E' impazzito C'è il sangue Agli occhi Non ci ha visto Più Ci vuole picchiare Attenzione ragazzi Ronaldo E Ronaldo Junior Si stanno Per pigliar botte Papà Che vuoi fare Mi vuoi picchiare Con mani nude Sono più giovane Io E' tua fontana Oh ragazzi Ronaldo Non ci vede più Oddio Ragazzi Non mi piace Che sta confabulando Ronaldo Sta fermo lì E sta a fa E devo preoccupare E non mi fa Papà Ma mi vuoi far male Veramente Aia Aia Che male Aia Che male Aia Che male Porco Porco Giuda Ragazzi Papà l'ha presa Sul personale Oh mio dio Papà Dove hai preso Quella mazza No Aia Ronaldo Junior Attento Altre due mazzate Di quelle E si ha l'ospedale Aiuto Aiuto Mio padre Mi vuole ammazzare Aiuto Aiutatemi Signore Aiutatemi Mio padre Mi vuole ammazzare Aiuto 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 Signore Signore Infami Siete due Babane Junior Scappa Oddio Papà Oddio Oddio che pazzo Si è buttato anche lui Ha fatto pure una cabriola Manco fosse James Ben Sto vedendo l'alba Dell'ospedale Che mi si avvicina Aiuto Aiuto No Mi ha lisciato per poco Oddio è caduto È caduto papà Non mi raggiunge più Ronaldo Schereo Aia 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 Oddio papà è caduto È caduto papà Ragazzi Ronaldo Junior Ronaldo è caduto Di paffetto Aia Aia Oh merda No Ci ha massacrati Oh merda Ragazzi è la mamma Ronaldo Junior Stai fermo Porca miseria Ho capito che sei sul lettino Dun Oddio 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 Mamma Babà Ragazzi credo a questo punto che l'unica cosa che ci separi dalla vita e la morte sia questo letto di ospedale Guardate Ronaldo Il cazzato nero pronto Che la mazza baseball in mano Beh ragazzi diciamolo Ronaldo Junior da un lato lo sarei cercato Direi che lo sarei cercato Sì ragazzi Porca miseria Allora Ditemi se vi è piaciuto questo episodio Mi raccomando Vedete un bel mi piace Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Commentate E mi raccomando condividete il video con i vostri amici Vi ricordo in descrizione Trate le maglie ufficiali In edizione limitata E il mio Instagram Se volete Venitemi a seguire Così vi posso salutare in tutti i prossimi video E ragazzi Contate le magliette se volete Perché sono veramente fighe In edizione limitata di Ronaldo Ronaldo Junior Spero il video vi sia piaciuto Qui è il povero Ronaldo Junior Che ragazzi Attenzione In ospedale Con la mano Alla testa Forse si è fatto un po' male Regà Forse Dico forse Poverino sul letto E questo Ditemi se vi è piaciuto il video Come è questo ragazzi Grazie a tutti Per la visione Poi adesso ci becchiamo Al prossimo video Ciao